Il nostro giudizio è angosciato per la sorte dei due maroni, preoccupato perché l'Italia fa una figura grottesca a livello internazionale e chiediamo al Governo la razza dei suoi comportamenti che cominciano da quando non si sa bene chi diede indicazioni alla nave italiana di ritornare in un porto indiano perché è da lì che cominciano tutti i guai. Dopodiché c'è stata una gestione di bassissimo profilo che adesso si conclude in un modo schizofrenico con un colpo al prestigio dell'Italia nel senso che se qualcuno aveva in testa di farli tornare era meglio farli tornare subito e non andando incontro a questa bruttissima figura che complica la vita anche dei due marò. Quindi una cosa che ha solo passività e nessun aspetto positivo.